Eeeh, non smetti mai di ballare tu, sei bellissima, ti adoro, stavo, ragazzi. A Thomas per la sua ultima sera nel suo appartamento. E al suo sostituto, grazie al quale la convivenza sarà uno spasso! Ma scherzi! Non viene più. Hai un piano B? Beh, lo spero per la tua incolumità. Jeanne. Antoine. E quindi, sei ancora single? Mamma! Tesori miei! Teo, otto anni. Hai una playstation. Lu, cinque anni. Mamma, dov'è la nostra camera? Ditemi che non è vero. Ciao, Antoine. Questo fine settimana, tu, Mimi e Coco sparite. Ho appena lasciato il mio appartamento, dentro il quale c'è mio marito, che probabilmente è con Sandrine. Quindi noi restiamo, tu fa come vuoi. No, non sono stato io! Ma sei ma? Mollo! Vai! Fermi! Datemi stare a comando! Questa è guerra, ragazzini. Nessuno si alza da tavola se non ha mangiato tutto. Tanti pipì! E a letto! Sono le due del mattino. I bambini dormono! Non è possibile! 250 euro per schiavazzi notturni. E va bene, poi ti levi dalle scatole. Ah, che dolore!